Ciao a tutti, sono Destro Francesco, vengo da Padova. Sono venuto qui in Itaforma per specializzarmi nella soldatura di tubazioni. Prima facevo il puntatore, l'accopiatore, l'aiuto soldatore e sono venuto per conseguire il patentino a TIG su tubi in acciaio a carbonio e in acciaio inossidabile. Itaforma l'ho trovata su internet. Penso che sia la scuola di metà meccanica migliore in Italia di sicuro fornisce istruttori preparatissimi che ti portano a raggiungere anche senza esperienza dei buoni livelli di salvatura e in più in tutte le posizioni. Inoltre, Itaforma dà la disponibilità di alloggiare nel campus da quelli che vengono distanti come me per esempio e c'è la possibilità di riconoscere tantissimi ragazzi da tutta Italia e fare nuove amicizie. Sono ritornato dopo un anno e mezzo di lavoro nel campo per implementare la mia capacità lavorativa e conseguire il patentino ad elettrodo sempre su acciaio a carbonio e tubi in acciaio a carbonio. In più, Itaforma dà la disponibilità di fare corsi di disegno meccanico, di carroponte e di muletto. Inoltre, Itaforma aiuta i corsisti a trovare lavoro in qualsiasi momento e per sempre e vi ringrazio lo staff Itaforma e buona serata.